Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è un video un po' diverso da solito, un video che mi avete richiesto e quindi ecco a voi il mio metodo di studio. Premessa, premessa importantissima. Questo è il mio personale metodo di studio. Ci tengo a precisare mio e personale perché non è detto che vada bene per voi. Poi magari potete prendere spunto da un passaggio del mio studio, del mio processo di studio e non considerare tutto il resto, tutti gli altri passaggi. Come magari potete vedere questo video per semplice curiosità e raccontarmi il vostro metodo di studio che è completamente diverso. Questo non serve solo a me per soddisfare la mia curiosità, ma può essere davvero utile per chi sta cercando un metodo di studio anche alternativo al mio. Quindi vi invito a commentare con la vostra esperienza di studio. Ci tengo a precisare anche che questo metodo non è infallibile, non è infallibile nemmeno su di me, però è un metodo di studio che mi permette di affrontare gli esami con serenità, che è la cosa più importante. Quindi vi auguro davvero di trovare la vostra serenità nello studio, di appassionarvi alle materie che affrontate, che studiate e di arricchirvi con queste. Poi le soddisfazioni arriveranno, fidatevi. Allora, il mio metodo di studio si divide in quattro passaggi fondamentali. È semplicissimo, però è molto... è un procedimento abbastanza lungo. Andiamo un attimino più nel dettaglio. Vi dicevo quattro fasi. La prima di... adesso ve la dico molto brevemente, poi andiamo un pochino più in profondità. La prima è lettura e sottolineatura. La seconda è... la seconda fase è la schematizzazione. E la terza... cioè la terza, penultima, la memorizzazione. E la quarta... Sì, la quarta è così, vabbè, ho saltato un dito. E la quarta è la ripetizione. Ripetizione ad nauseam, anche perché io ho tantissimi esami orali, la maggior parte dei miei esami sono orali, e quindi la ripetizione è importantissima. Quando ho degli esami scritti, invece, mi soffermo un pochino di più sulla terza fase, che è quella della memorizzazione. Una volta che so i libri che devo studiare, dalla bibliografia, perché li dice, li indica il docente, io inizio a leggere e sottolineare. Non leggo tutto il libro e poi lo rileggo per sottolinearlo, ma leggo e sottolineo contemporaneamente. Non uso vari colori per sottolineare. A volte sottolineo in matita e fondamentale per me è appuntarmi qualcosa vicino, di fianco ai paragrafi, per aiutarmi poi nella seconda fase, che è quella del riassunto, dello schema, che mi porta via gran parte del tempo. Però è una fase, per me, fondamentale, per tantissime ragioni. Prima fra tutti perché mi aiuta a far mia la materia e rielaborando i concetti riesco già un pochino a memorizzarli o comunque ad avere una panoramica generale sull'argomento e capire già quali sono gli argomenti madre, che devo sapere bene, e poi a creare i vari collegamenti. Quindi rielaborare per me è importantissimo. Poi sotto forma di schema, freccette, di riassunto più o meno discorsivo, in realtà va molto a materie, come mi sento io. A volte faccio dei riassunti a computer, a volte li scrivo a mano, quello dipende tanto dalla materia e da come mi sento. Anche qui non uso colori, in realtà. Penso di essere una delle poche persone che non è un amante della cartoleria. Non uso troppi colori per sottolineare, per schematizzare, perché mi trovo meglio così, non sfrutto la memoria visiva, non l'ho sviluppata e quindi i colori non mi servono. Comunque non me ne servono tanti. Quindi secondo me, cioè per me è uno spreco. Arriviamo alla fase per me più noiosa, lo ammetto, è quella della memorizzazione. Cioè, come posso spiegare come memorizzo? In realtà dipende tanto anche qui da materia a materia. Sostanzialmente leggo e rileggo. Quarta fase è quella della ripetizione. Una volta che ho memorizzato i concetti, ripeto, 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 fino a finché non mi viene, non mi arriva, non mi viene la nausea dell'argomento. Devo essere esausta di quella materia e allora capisco che sono pronto. Comunque io mi sento sicura quando ripeto dei concetti. Cioè, vado tanto per argomenti e per concetti. Finché quando so ripeterli, rielaborarli a parole mie e soprattutto riesco a creare dei collegamenti, so che sono pronta per l'esame. Comunque mi sento, cioè meglio, io mi sento pronta. Poi non è detto che vada sempre bene. L'importante è che io sia nella condizione mentale di affrontare quell'esame con tranquillità perché io so che ho dato tutto il possibile, ecco. E questo metodo mi permette di sentirmi così e quindi è adatto a me. Spero di esservi stata utile. Ditemi se anche voi studiate in questo modo. Ve ne ho parlato molto velocemente in realtà perché sono quattro fasi molto in realtà banali. Se siete curiosi, se volete chiedermi altro, c'è a disposizione la funzionalità, commenti. E anche per parlarmi un pochino di come studiate voi. Che sono molto molto curiosi e ripeto può servire ad altri. Se questo video vi è stato utile o vi è semplicemente piaciuto, battete un like. E vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando il pulsante qui in basso. O direttamente sul mio faccione che comparirà qui per non perdere i prossimi video. Dalla prossima volta torniamo a parlare di libri. Promesso. Ciao!